21 agosto continua il giro in kayak e qui è facile riconoscere siamo alla spiaggia dei gabbiani splendida come sempre e questo video proseguirà dalla spiaggia dei gabbiani fino a quella della vela e qui andiamo a fare il classico passaggio tra gli scogli per entrare nel tratto più bello immediatamente dopo la spiaggia dei gabbiani non c'è niente da fare questo tratto mi fa impazzire ha dei colori favolosi contrasti cromatici da subito e sono sempre sul mio nuovo evolution 2.0 in carbon kevlar della nautica manini e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo ciao ciao Grazie a tutti. E' una spiaggia lunga oggi affollata, un po' come tutto il litorale. E' una spiaggia lunga oggi affollata. E' una spiaggia lunga oggi affollata. Direi che oggi il mare ci regala una trasparenza ottima. E' una spiaggia lunga oggi affollata. 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 Questo video è finito. Metti mi piace. Iscriviti al canale. In modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video. Ce ne sono di vari generi. I video di questo giro continuano. Ciao, alla prossima! Ciao!